Ma questo di questa sera per me è importantissimo qui a Velia, al Parco archeologico di Elea Velia, perché è la mia prima iniziativa, è il mio primo incontro, ecco vuole essere un incontro gradevole, un incontro di condivisione, di condivisione di un patrimonio che è un'eccellenza della nostra terra. Si è presentata ufficialmente alla comunità cilentana la neodirettrice del Parco archeologico di Elea Velia, Giovanna Scarano, già capo del Museo di Eboli e nominata dopo il passaggio di gestione del Parco archeologico al Polo Museale di Napoli. Al fianco del sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo, la dottoressa Scarano promette il massimo impegno e parla dei provvedimenti urgenti che intende prendere per rendere l'area archeologica di Elea Velia maggiormente vivibile. Il mio lavoro, dice la Scarano, sarà concentrato in maniera particolare sul museo. Io sono convinta che la cultura è uno spazio aperto, quindi anche i sapori della nostra tradizione, di questo territorio, rientrano a pieno titolo nel patrimonio culturale, in modo da dare la possibilità a chi viene, a chi oggi sarà presente, e non solo oggi perché sicuramente ci saranno tante altre iniziative, quindi di dare la possibilità di avere un'immagine, come dire, a tutto tondo di una realtà che ci inorgoglisce, di una realtà che è essenziale, essenziale perché non è un passato morto, il passato non è morto ma rivive attraverso di noi. È questo che volevo sottolineare, l'importanza della condivisione. Infatti lo slogan delle giornate europee del patrimonio del 2018 è proprio l'arte di condividere. E io direi, aggiungerei, cambiando la preposizione, non solo l'arte di condividere, ma anche l'arte da condividere. Quindi noi dobbiamo comunque condividere questo patrimonio immenso e dobbiamo anche essere in grado, tentare di essere in grado di condividerlo con tutti, nei modi giusti, nei modi più appropriati, nei modi più aperti, perché tutti hanno il diritto di conoscere. Quindi noi dobbiamo fare in modo che ognuno, ciascuno, abbia la conoscenza di questo patrimonio, perché se non si conosce non si può amare. E questa è una terra da amare, questo è un parco da amare e rispettare. Beh, oggi a Velia c'è un nuovo inizio con la nuova direttrice e inauguriamo, diciamo, per l'appunto un nuovo inizio. La nuova direttrice ci tiene molto per Velia come i suoi predecessori ed ha cominciato già, a mio avviso, con il piede giusto a fare il diserbo. Oggi vediamo un parco archeologico davvero pulito e sistemato. Oggi parleremo di Velia, parleremo di cultura, parleremo di quelle che sono le potenzialità e di quelle che sono le azioni da mettere in atto per questo importantissimo sito. Quindi davvero è un momento storico ed è un nuovo inizio.